L'attesa è praticamente finita, domani mattina alle 9.30 qui di fronte a Palazzo Farnese scatterà dai blocchi di partenza la 25esima edizione della Placenza Alf Marathon for Unicef, la mezza maratona di Piacenza che dopo due anni di stop a causa del Covid torna nella nostra città. Ampiamente superate le aspettative degli organizzatori visto e considerato che ci saranno oltre mille partecipanti. Stamattina l'abbiamo passata a cercare di trovare dei pettorali delle persone che per qualche motivo non avevano potuto partecipare perché avevamo decine e decine di richieste perché non avevamo più pettorali. Siamo oltre mille cento partenti e che è una cosa che veramente non ci si poteva aspettare dato il fatto, come hai giustamente detto, del Covid e che aveva provocato anche lo slittamento delle più grandi manifestazioni del settore del nord Italia. La manifestazione è molto attesa e è mancata in questi due anni? Siamo andati ancora un po' al solito i piacentini sull'argine, il parco e adesso è ripreso le marce, abbiamo cominciato con le marce però queste le aspettavamo. Io sono di Padova e sono venuto a fare un po' di turismo e un po' di sport e quindi l'impressione della città è buona speriamo che sia l'impressione anche della maratona e della mezza che sia buona. E quest'anno è la prima volta che corro in presenza perché l'anno scorso ho partecipato alla Placentia Half Marathon virtuale quindi ho corso da sola e penso che sarà una grossa emozione correre comunque nella mia città con tante altre persone nonostante il tempo. Quali sono le aspettative? Le aspettative sono buone, l'allenamento c'è, poi spariamo nel tempo. Lei quanti anni ha? 76. Complimenti. Grazie. Ma la Placentia Half Marathon, intesa come una festa che fa camminare una città, è iniziata già oggi pomeriggio con i giochi per bambini all'Arena da Turi, la marcia camminando per un sorriso, bim bim bici e corri con me. Domani invece, a partire dalle 10, Tele Libertà trasmetterà la diretta della maratona da Piazza Cavalli con interviste e collegamenti con tanti partecipanti e ospiti.